Ben ancora qui da Calimera, vediamo c'è un calcio di punizione dal limite dell'aria per lo Sternatia, risultato sempre fermo sullo 0-0, Sternatia continuiamo a dire ormai da tutti gli interventi, molto dinamico, molto dinamico, però nella parte finale ancora non siamo riusciti a concludere tanto in porta. Adesso aspettiamo l'esito di questo calcio di punizione mentre l'arbitro conteggia i metri per regolare la barriera nel migliore dei modi, ancora pochi secondi per potervi nuovamente ribadire come il pubblico sta partecipando calorosamente a questa prima partita che lo Sternatia gioca in casa. Ma torniamo un attimo qui, vediamo questo calcio di punizione, c'è sulla palla sia Villani che il Lezzi, vediamo un pochino se Villani riuscirà magari a portare in vantaggio lo Sternatia, parte Villani, attenzione il tiro, la palla finisce sulla linea, sul palo e poi viene mandata fuori, Sternatia veramente sfortunato, veramente sfortunato.